L'imperale, sotto l'imperatore, quando più ripulsa la grandezza, i pasti, le vicende di costumi, un uomo dotato di una forza fisica ordinaria e di un coraggio di ecceziorno all'improvviso. E gli ostacola l'animento i progetti di un uomo che intendeva piegare il destino alla sua cieca sete di potere. E chi minaccia Roma? I cristiani, lo sai, venisco, i loro liti superstiziosi, la loro disobbedienza, le leggi, il loro amare nell'ombre. E falli catturare, falli distruggere, invece di stare qui a fare le chiacchiere. Ricorrendo ai trucchi più astuti, ai più audaci stratmi, egli strappa la morte decine e decine di cristiani. Ma chi è quest'uomo che ha osato sfidare l'imperatore? Maciste, gladiatore di Sparta. Egli non accetta la prepotenza ed il sopruso. E mentre i cristiani usano chinare il capo e rassegnarsi dinanzi alle minacche subire il martirio, egli impegna battaglia. Ma che cosa lo spinse a lottare con tanto ardore e accanimento? La sua ambizione? La sete di potere? Vuoi la mia villa di Anzio? Dieci fra le più belle schiave romane, centomila sesterti d'oro? No, fu l'amore. Amò e fu amato con dedizione e con tà. Fino al sacrificio supremo. E fu l'amore che gli diede la forza di salvarsi. L'amore senza passione. L'amore come il più puro dei sentimenti. Dalla nuvola nera che grava minacciosa nell'aria, presagio di distruzione e di morte, scoppia la tempesta e la tragedia si conclude. Magiste gladiatore di Sparta. Un eroe da epopea in un clima tra storia e leggenda. Magiste gladiatore di Sparta. Un film divertente. Ricco di avventure e di amore. Magiste gladiatore di Sparta. Con Mark Hornery. Marilu Polo. Robert Hunter. Heather White. Elis Panty. Juan Romano. in the days of imperial rome under the emperor caesar vitellius when luxury magnificence and depravity were at their peak a man endowed with amazing physical strength and indomitable courage suddenly makes his appearance he courageously baffles the plans of an ambitious man whose sole object is to satisfy his blind thirst for power and who's threatening rome christians as you very well know with their ridiculous superstitions their disobedience of our laws they're plotting in the shadow why don't you capture them see they're destroyed instead of standing around chattering employing the boldest stratagems and the cleverest devices he saves hundreds of christians from death in the arena who is this man who dares to buy rome and its emperor machiste the gladiator of sparta he will not accept oppression and the abuse of power and while the christians bow in resignation before cruel domination he engages in battle but what is it that impels him to fight with such fury and dedication his profound religious faith ambition lust for power well now would would you like to have my villa at antym ten of the most beautiful slave girls in rome a hundred thousand pieces of gold no it is love he loves and is beloved with complete devotion even to the supreme sacrifice and it is love that gives him the strength to save himself a love above earthly passion a love glowing with spiritual fervor from the black cloud that hovers threateningly in the air presage of death and destruction bursts the tempest that lashes the drama to its glorious conclusion machiste gladiator of sparta an epic hero in a world between history and legend machiste gladiator of sparta great entertainment and adventure packed film glowing with love machiste gladiator of sparta starring mark forrest marilu tollo robert honda peter white elizabeth tanteen verrucho amindola pretend rar rar Grazie.